Spegnere le luci per un'ora per salvare il pianeta, spegnere le luci per un'ora per riaccendere l'Abruzzo è lo slogan scelto dal WWF regionale per l'undicesima giornata della Terra, indetta dall'Associazione Ambientalista in tutto il pianeta per il 25 marzo, giorno in cui si spegneranno le luci pubbliche tra le 20 e 30 e le 21 e 30. L'Air Tower, a cui aderiscono 176 nazioni del mondo, è diventato un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, mutamenti dell'ambiente a livello globale che però hanno effetti pesanti anche a livello locale. L'anno appena terminato ad esempio è stato il più caldo mai registrato con l'incremento di 1,3 gradi centigradi sopra la media dell'era preindustriale. Ed è proprio prendendo spunto da queste considerazioni e da quanto accaduto nelle scorse settimane in Abruzzo con l'emergenza maltempo che il WWF ha consegnato a Lanci, l'Associazione dei Comuni Italiani, una bozza di delibera per rendere attivi i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, iniziativa a cui hanno aderito già moltissimi comuni abruzzesi, un elenco in continuo aggiornamento. Abbiamo consegnato questa mattina al presidente regionale dell'Anci, Luciano Lapenna, una bozza di delibera che l'Anci dovrebbe inviare a tutti i comuni abruzzesi perché ogni comune faccia la propria parte valutando, elaborando un piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra l'altro una cosa fondamentale da spiegare ai cittadini è che l'adattamento ai cambiamenti climatici e il riscaldamento globale significa che il pianeta si sta scaldando, ma non significa in assoluto che faccia più caldo ovunque. Per esempio il fatto che si sciolgano i ghiacci al polo raffredda la corrente del golfo e dà degli effetti negativi anche a livello di freddo, per esempio in Europa. Quindi tutto questo cambiamento climatico è un clima anomalo, un clima che sfugge al nostro controllo e che può creare soltanto problemi.